Francesco Acquaroli ha sciolto le riserve. Dopo le dimissioni degli assessori regionali uscenti Mirco Carloni, Guido Castelli e Giorgio Latini, eletti in Parlamento il 25 settembre scorso, il presidente della regione Marche ha provveduto alla firma del decreto di nomina dei tre assessori che entrano a far parte dell'esecutivo. I nuovi componenti della giunta sono Goffredo Brandoni di Fratelli d'Italia, Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi della Lega. Al primo andranno le deleghe al bilancio, alle finanze, al demagno, ai trasporti e alle politiche comunitarie. Ad Antonini invece vanno lo sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, agricoltura, alimentazione, fonti rinnovabili, cooperazione, interazione allo sviluppo, marchigiani del mondo, caccia e pesca sportiva. Infine a Chiara Biondi sono state assegnate le deleghe alla valorizzazione dei beni culturali, ai musei, alle biblioteche, spettacoli ed eventi, istruzione, sport, piste ciclabili, politiche, giovanili e volontariato, pari opportunità e partecipazione. Restano invariate invece le deleghe degli assessori in carica. Le funzioni di vicepresidente sono state assegnate all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, mentre il governatore terrà per sé la delega alla ricostruzione. Si tratta di una scelta in continuità con la linea tenuta precedentemente, ha scritto Acquaroli su Facebook e cioè di dare spazio a profili di comprovata esperienza amministrativa che possano fin da subito mettersi a disposizione dei marchigiani. Voglio anche chiarire, ha aggiunto il presidente, che la scelta caduta su Brandoni è stata il frutto di una riflessione volta a evitare ogni strumentalizzazione possibile sul dramma dell'alluvione che purtroppo avrebbe avuto delle ripercussioni sia sul dibattito che sul clima intorno ad una vicenda che impone la massima responsabilità e il rispetto di tutti. Acquaroli infine ha ringraziato il consigliere, capogruppo di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli, travolto dalle critiche dopo le parole sulle vittime dell'alluvione. Ciccioli, si legge ancora nel post, mi ha affidato la valutazione sulla scelta da fare. Lo ringrazio per la comprensione e per la maturità dimostrata con questo comportamento.